ciao a tutte benvenute in un altro mio video oggi vi voglio far vedere una new entry un nuovo gioiello lo sapete voi ormai sono qui su youtube da un anno e potete aver capito la mia passione per i gioielli amo anche i trucchi mi piacciono tantissimo ma spendo soprattutto per gioielli borse insomma più che altro più dell'abbigliamento per gli accessori prima di iniziare vi ricordo se vi fa piacere di supportarmi iscrivendovi al mio canale a lasciarmi qualche like e attivare anche la campanella lo faccio sempre anch'io con le youtuber che seguo proprio perché così non mi sfuggono i video di ognuna di voi quindi attivando la campanella si ha questa comodità qua niente iniziamo subito voglio farvi vedere un gioiello sempre di swarovski questo me l'ha procurato mio figlio perché sapeva che c'erano due anelli che stavo cercando uno è questo e l'altro che però non riesco a trovare l'anello tarot che avevo fatto vedere anche della stessa collezione dell'anello che mi ha regalato mio marito per san valentino sono riuscita a trovare gli orecchini quelli piccolini però sinceramente preferisco momentaneamente spendere se trovo per l'anello e non per quell'orecchino lì niente iniziamo subito così finalmente posso utilizzarlo questo è stato un vero affare l'anello vi metterò vicino alla misura è 50 55 perché all'interno c'è una linguetta che si adatta diciamo a diverse misure di dita vi faccio vedere da vicino la forma dell'anello e anche l'articolo se eventualmente vi piace e appunto lo volete ordinare questo qui mio figlio è riuscito a prenderlo non mi chiedete dove era nuovo non so se su ebay non non mi chiedete comunque l'ha pagato pochissimo rispetto al suo costo iniziale la scatolina quindi il pec esterno e questo questo è il pec secondario la classica scatolina di swarovski e vi faccio vedere cos'è quest'anello la cosa che mi ha conquistato tantissimo è tutto il profilo di perle non so se voi riuscite a vederle però è veramente veramente bello il contrasto la montatura è dorata adesso mi avvicino così vi faccio vedere la linguetta che vi dicevo non so se riuscite a vedere questa parte che c'è all'interno diversi brand di anelli stanno adottando questo sistema ho visto un anello meraviglioso del marchio save maria il marchio del braciale che porto esattamente questo qua e c'è un anello che mi piace da morire tipo sigillo con i quattro mori diciamo dorati su una base argentata e all'interno c'è sempre una linguetta del genere questo è l'anello ve lo faccio vedere indossato adesso non so ancora se metterlo così o così che forse preferisco l'anello questo non so se riuscite a vedere la luce l'anello tarot rimane molto molto più grande perché secondo me come dimensione una cosa del genere quindi va portato solo invece questo vi dico lo metterei anche con quest'anello l'unica cosa è che è particolarissimo non solo per il colore della pietra che è blu ma per tutta la rifinitura dei simboli che ha torno sempre di picche in tutta la montatura quindi quell'anello io spero di trovarlo perché mi piace tantissimo io non vi voglio dire fesserie ma mio figlio penso che l'abbia pagato non più di 30 euro compreso di spedizione non me l'ha detto perché mi ha voluto fare una sorpresa ma va detto ma questo ti piace detto sì ma non spendere poi con la misura non si capisce io inizialmente lo volevo portare qui è appena arrivato l'ho provato lì e mi stava bene adesso lo sento un po largo però un po stretto nelle altre quindi devo valutare un attimino perché ho paura no però non esce in effetti con quest'anello al mignolo un po troppo molto più bello così anche perché fosse un cuore comunque l'anello è questo tutte le mani secche perché con tutti questi igienizzanti e lavandoci le mani in continuazione comunque spero che riusciate a vedere che cos'è questo anello spero che le perle non vadano via o non si intacchino con tutti gli igienizzanti che utilizziamo perché quando metto l'igienizzante non mi sto a togliere la marea di anelli che mi metto però niente a me piace tantissimo e a me i gioielli piace utilizzarli comprarmi quei gioielli da mettere e tenerli riguardati perché se no si rovinano sinceramente non me li sto neppure a comprare quindi questo lo voglio utilizzare starò attenta come sempre però non voglio neanche lasciarlo nel cassetto adesso vi lascio all'outfit e dopo ci rivediamo per i saluti ed eccomi qua allora l'outfit di oggi è questo la borsa è quella che vi ho fatto vedere da poco che ero indecisa se tenere oppure no se sostituire e di gaps il colore è rosso io lo userò solo in questo lato perché nel lato interno per quanto a me piace il grigio non mi piace il contrasto che gli è stato dato la tracolla non ce l'ho con me perché l'ho portata ieri per farla per tenere diciamo i moschettoni ho acquistato la tracolla nuova la ritirerò giovedì e poi ve la farò vedere l'ho fatta senza regolazione rimane poco poco più sottile perché non sono riuscita a trovare il materiale identico però sono contentissima perché è nera e utilizzerò gli stessi ganci poi conserverò comunque la parte originale appoggio la borsa e vi faccio vedere nel dettaglio cosa indosso sotto allora il solito capottino 10 n che inutile dirvi che mi piace da morire e di una comodità estrema e anche molto caldo perché rimane foderato trapuntato la gonna che indosso penso di averla forse da due o tre anni e di motivi necopelle profilata di pizzo ha una cerniera sul davanti e ha il suo cinturino il maglione l'ho voluto mettere all'interno e il maglione di h&m con maniche a sbuffo non spalle sto dando pure i numeri e niente adesso vi lascio a inutile dirvi i miei stivali di prima donna con le frange e i leggings vi lascio al profumo rossetto e gioielli e rieccomi qua e niente adesso vi faccio vedere che cosa porto di rossetto cosa porto di profumo e ovviamente gli immancabili gioielli allora profumo 407 tiffany love di equivalenza nella confezione da borsetta in questo caso arancione che potete trovare in diverse tonalità il rossetto la tinta che indosso oggi è una tinta vecchissima della collezione asian touch e di kiko e il colore è quello che mi vedete indosso poi per quanto riguarda gli anelli adesso finalmente utilizzerò questo e anzi ne approfitto e me lo metto subito ecco qua ferma coda orologio quello della collezione di nixon vi faccio vedere da vicino della di nick mouse con la nuvoletta il bracciale di rebecca con il mio nome e l'immancabile braccialetto 1 dei 50 col cordino poi l'anello in oro bianco con la scritta ti amo hello view le due fedi il mio apple watch da 38 e poi la mia serie di bracciali che a parte questi tre che può essere che io li levi li sposti come braccio questi li tengo sempre in questo braccio qui e sono quello di stroili con tutte le iniziali nostre quello di suffil con la foto mia di mio marito poi il save maria questo no brand e questo di rebecca col nome del canale questi tre ovvero questi di rebecca uno con la piastrina 50 e l'altro con la piastrina m li tengo non fissi e poi ho questo di marlù che anche questo posso cambiare di braccio comunque non tenere su fisso basta per quanto riguarda la collana o sui due braccialetti di swarovski che io porto a choker e per quello che vi dico io preferisco o la collana così o la collana bella lunga allora di ci deve essere qualcosa che mi procura allergia io ogni volta che giro i video sono sempre raffreddata eppure non ho niente però ogni volta che sono qui che è la moquette io starnutisco in continuazione se ogni tanto mi sbaglio editando il video lascio qualche spezzone dove starnutisco vi prende un colpo perché io non sono proprio delicatissima nello starnutire comunque o i due cerchietti in oro giallo e poi questo no brand il cerchietto con la croce ecco questo qui come tipologia è un orecchino che a me come misura non fa impazzire perché come vi ho detto mi piacciono o i piccolini o quelli giganteschi io purtroppo non ho mezze misure la gonna o corta o lunga la lunga già mi piace le metto però non mi piacciono proprio le mezze misure o è bianco o è nero poi ci sono tante sfumature però io sono proprio così gli orecchini che c'ho a sinistra sono quelli di ambrosia in oro bianco basta vi ho fatto vedere tutto questo video termina qua e noi ci vediamo domani con un altro mio video ciao a tutte